Is blu da da be da be da di is blu da poti da poti It's abba me abba stop, abba me abba die It's abba me abba stop, abba me abba die Ah vabbè a tutti raga, un abbraccio da LordiKai3 e benvenuti in questo nuovo video Sono qui con JoePic, ma salve Siamo qui su Among Us Finalmente porto anch'io questo gioco Finalmente Ok Giù siamo pronti allora? Si prontissimi Allora Giù mi ha fatto cambiare il nome Da Lord Gay con una I stampatello perché Giù questa cosa? Allora praticamente in questo video io mi chiamo L minuscola e lui si chiama I maiuscola Ci leveremo tutti i vestiti Aspetta una male Comunque andremo in electrical In electrical lo puoi andare? E perchè vuoi in electrical? Si E ci metteremo Aspetta aspetta Stavo per dire ci metteremo uno sopra l'altro ma sono ancora peggio Aspetta una cosa che ci ha mezzo in electrical ci sta ok Ma una cosa che ti vuoi spogliare In electrical Cazzo vuoi fare proprio? Ti metteremo uno sopra l'altro in electrical Si E aspetteremo il killer Che viene a uccidere uno di noi due Si si ho capito ho capito Comunque vai sei pronto per spogliarti andare in electrical? Prontissimo Ah beh dai ma sono quattro persone Levati tutti i vestiti Ma sta startando in quattro No 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 sta startando Si No No Sono pure l'impostore Sono pure l'impostore No 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 dai dai Vieni qui lord Aspetta proviamo la cosa Vieni qua E tu l'impostore Aspetta proviamo 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 fa una cosa Proviamo 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 No All around me are familiar faces worn out Se non mi stai Non mi stai Non mi stai Cacca la testa Fai l'elettrica, vai l'elettrica No 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 Vai in security direttamente Vai have a great time No che cazzo sta a fa' questo? Bro che cazzo sta a fa' questo? Questo non se l'hai accorto Come si va a vincere così bro Quello t'ha visto proprio Che sta volentata la foto Sono uscito davanti I suoi occhi Secondo tentativo S W I M Poi W Q no cazzo siamo in 10 Entra W Q Sì Sì Mamma mia Ma sono l'impostore di nuovo No dai prova di nuovo l'impostore seria che cazzo Vieni qui Lord Vieni qua No prova aspetta No Aspetta fammelo fare No fammelo fare per spizio Vieni qua No No non No bro No It's time to stop It's time to stop ok no more what the fuck are your parents who are your parents I'm gonna call Child Protective Services it's time to stop I'm going to call Child Protective Services Brown I saw him Addio Marrone Why is this thing? Why is this thing? Why is this thing? I'm going to kill you two of them Go report Or... I'm going to kill you two of them Why do you fix the lights? Ok 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 Un наверное Ok 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 Fatti Ok Mi faccio anche la task Non so Non so Ti immagini che voto un impostore Ci sono 3 persone questo 2 impostore e 1 impostore E 1 e 1 C'è almeno la servena che cercavo io era 1 E lo posso dire cazzo Io ero in elettrica Io ero in elettrica E l'elettrica E l'elettrica Con blu Si Mi puzza di bianco Comunque Mi puzza di bianco A me puzza di bianco Si si Is blu 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 Potiamone una a casa decidi Io direi bianco bro Però non voglio vincere easy Quindi facciamo il giallo Gli ha votato il bianco Mi fa votare Ok Ok No Non è possibile Questa cosa non è possibile Questa cosa bro Non è possibile E che cazzo proprio dai Eccolo 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 Non è possibile C'è noi un troll Volevamo fare Abbiamo fatto tutte le partite Cioè due partite Due due impostori e due abbiamo scammato subito ma quello che va a dire ha sabotato il reattore I was in reactor non si gioca così cazzo non si gioca così porca troia raga se questo video arriva a più di 70 like farò uscire la seconda parte così potrete vedere anche me da impostore quindi raga lasciate un bel mi piace ci vediamo in un prossimo video